Ma l'amore, ma l'amore, ma l'amore, 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 l'amore è che? C'è questo bagno che devi dare i genitori? Gira cozzoni, eh? Che ha questo ragazzo, signore? È malato? È cassa integrata. Questo mese lavora Papini. Dio, bo, non l'aveva vinto anche il mese scorso. Maurino, sarà parecchio contento di conoscerti. Maurino? Maurino. De tu, c'è solo, c'è solo un caldo. Lei ha proprio qualcosa che loro non hanno. Sì, lo so, Giovanni, il posto fisso è importante. La fede. Eccola qui, la santissima eternità. Briscola, scopa e tre sedi. Io mi sbatteremo. Ehi, credo, credo! Ti parlo, io che pucca paia a Bissai. Zè, c'è il prosciutto, formaggio, salame, gioie giang pinna. Io si muove la fede. Novi, c'è la forma. Devi mettere ordine nel caos! Vi mình di nuovo con quello che èướtta. Tgebotor. �ggi. Vona extra. Vona extra. Vona extra.